E' Ilaria Tomasoni il nuovo comandante della polizia locale di Clusone. Sale così a 7 il numero degli agenti a disposizione del comando di Clusone. Sono sempre di più i giovani che in Valle del Luio si dedicano all'agricoltura. Nel fine settimana ad Abbazia torna la mostra zootecnica. Da Pisogne ad Ardesio 30 chilometri a piedi è il cammino come Naolta che ripercorre le tracce dei pellegrini che un tempo raggiungevano il santuario dalla Madonna delle Grazie. Domenica una nuova edizione. Telespettatori e telespettatrici di Antenna 2 TV, buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Ed eccoci qui, questa sera non abbiamo cronaca da raccontarvi, è stato un giorno fortunato per quanto riguarda il nostro territorio e allora vi portiamo immediatamente a Clusone perché c'è una buona notizia per la città Baradella. Oggi si è insediato il nuovo comandante della polizia locale di Clusone, lei è Ilaria Tommasoni e ce la presenta il primo cittadino Massimo Morstabilini. Massimo Morstabilini è un giorno importante per Clusone perché ufficialmente da oggi 15 settembre c'è un nuovo comandante della polizia locale di Clusone. Sì esattamente, questa mattina ha preso servizio presso il comune di Clusone il commissario capo Ilaria Tommasoni, quindi a lei un benvenuto, quindi siamo felici di averla qui all'interno del nostro comando di polizia locale che è un comando importante perché è un comando comunque che è costituito da 6 persone più uno più il comandante, quindi siamo a 7 persone e per una cittadina come Clusone è comunque una bella risorsa. Cosa cambia ufficialmente? Allora, sì innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare una persona che è il sovrintendente Daniela Bonaccorsi che ha assunto il comando provvisorio del corpo di polizia locale del comune di Clusone per l'anno 2022, cioè da quando l'ex comandante Giuliano Vitali ha preso servizio nel comune di Massa e quindi lei si è resa disponibile su mia richiesta, su nostra richiesta di assumere questo comando in maniera temporanea sapendo che comunque avremmo dovuto fare un concorso per ragioni diciamo normative e che quindi ecco da oggi arriva appunto il nuovo comandante. Daniela Bonaccorsi che ha svolto un lavoro egregio insieme ai colleghi e che quindi ringrazio veramente per tutto quello che ha fatto in questi mesi per noi. Quindi ecco da oggi assume il comando in maniera definitiva il commissario capo Ilaria Tomasoni e quindi si parte con un nuovo percorso quando si sa che quando c'è un cambiamento così importante ai vertici diciamo della struttura quindi poi si traprendono delle linee nuove tutto quanto quindi ci sarà un lavoro nuovo da cominciare con oggi. Abbiamo visto in questi anni tanta attenzione verso i bambini, verso i ragazzi, verso anche quello che è l'insegnamento dell'educazione civica e in questo caso questo credo che sia comunque una mission che porterete avanti anche a livello di comune insieme alla polizia locale. Assolutamente sì, partire dai più giovani, educazione civica, dici bene, ce n'è bisogno e c'è bisogno di tanta educazione, di tanta consapevolezza e ciascuno deve fare la sua parte con il corpo di polizia locale ma in generale come amministrazione, come comune di Clusone ci sono tante iniziative rivolte anche a questo aspetto di sensibilizzazione e di educazione appunto con il coinvolgimento anche delle scuole quindi prestissimo ci sarà un corso di educazione stradale presso le nostre scuole, il nostro istituto comprensivo, abbiamo visto a maggio, giugno che c'è stata anche la giornata in bici dove anche lì è stata fatta educazione stradale, insistiamo sempre sull'aspetto di educazione civica legata all'abbandono dei rifiuti, al fatto di comunque del rispetto del codice della strada e su questo punto stiamo battendo molto, stiamo combinando tante sanzioni per l'abbandono dei rifiuti sebbene questo aspetto sia ancora troppo radicato all'interno del nostro comune quindi queste cose continueranno tutte anzi verranno ulteriormente incrementate con l'aggiunta di questa nuova figura quindi una persona in più ci sarà quindi anche un incremento dei controlli, della sicurezza, dell'educazione civica tutto nell'ottica del civismo quindi di una qualità della vita superiore nel comune di Clusone. Da Clusone alla Valle del Luglio sono sempre più i giovani che si dedicano all'agricoltura ed è per questo che nel fine settimana ad Abbazia torna la mostra zoon tecnica che diamo il servizio di Nicola Andreoletti. Nel fine settimana la mostra zootecnica della Valle del Luglio al campo sportivo di Abbazia un appuntamento che torna a pieno ritmo. Si torna a pieno ritmo questa è la settima edizione della mostra zootecnica Valle del Luglio dopo un anno di stop causa Covid 2020 un po' di restrizioni l'anno scorso 2021 quest'anno si parte a pieno ritmo ci sono i tre giorni venerdì sera alle 19 cucina gestita da Gigi Moro con le tradizioni bergamasche alle 21 c'è la musica con DJ Alex il sabato partiamo alle 3 alle ore 15 che c'è l'animazione per i bambini un pomeriggio dedicato proprio a loro c'è il truccabimbi ci sono gli animali da cortile della fattoria c'è la lavorazione del burro e del formaggio la mungitura abbiamo pensato anche a loro e poi ci sono gli animali da cortile galline conigli qualche canarino e alcuni banchetti proporranno i loro prodotti mentre invece per la sera c'è la cucina dalle ore 19 sempre con Gigi Moro alle 21 una ricchissima tombolata con premi regalati dalle aziende agricole e poi la serata si conclude col DJ Nello con la musica del DJ Nello la domenica invece diciamo che è proprio il clou della nostra mostra si parte alle 9 di mattina con l'esposizione di tutti gli animali delle 14 aziende agricole della valle alle 10 c'è l'arrivo delle autorità ognuno farà il suo discorso e poi a mezzogiorno si pranza alle 14 c'è ancora una ricchissima tombolata e nel pomeriggio c'è musica con Natalia e la sua fisarmonica ci saranno i balli tipici folcloristici della nostra zona e niente poi durante il pomeriggio ci sono i banchetti i gazebi di tutto quello che riguarda il mondo agricolo dai nostri produttori locali di formaggi, miele e via dicendo ai nostri fornitori delle macchine agricole trattori, motoseghe, tutto quello che riguarda un po' il nostro mondo la mostra è organizzata dall'associazione agricoltori della Valle del Luio ricordiamo quando è nata e in quanti siete? Allora l'associazione è nata nel 2019 eravamo in 18 associati quest'anno c'era la scadenza dei tre anni l'abbiamo rifatta diciamo e si sono aggiunti dei giovani siamo a 25 giovani che ci danno prima di tutto un aiuto poi loro hanno idee nuove, hanno voglia di fare e tutto questo è vantaggio per l'associazione e per tutto quello che riguarda la mostra perché comunque avere dei giovani che hanno voglia di fare che anche per noi sono nuove forze e loro anche hanno delle idee nuove un modo di gestire le cose diversamente e questo ne porta vantaggio per noi ed ora vi parliamo di un pellegrinaggio davvero speciale da Pisogne ad Ardesio sono 30 chilometri è il cammino come una volta che ripercorre le tracce dei pellegrini che un tempo raggiungevano il santuario della Madonna delle Grazie domenica ci sarà una nuova edizione vediamo il servizio come una volta è un pellegrinaggio da Pisogne al santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio come è nata questa idea? questa idea è nata fra al tempo 15 anni fa tra un gruppo di amici eravamo agli inizi di questa voglia di camminare che ormai ha preso un po' tutti infatti si vede la mattina che tutti camminano e ci siamo detti ma che cosa possiamo organizzare? e uno butta l'idea ma una volta andavano ad Ardesio per chiedere la grazia per il lavoro oppure per la guarigione del figlio e io la butto e dico scusate perché non proviamo a tornare ad Ardesio una volta all'anno al posto di farla magari nel giorno esatto della festa di Ardesio del santuario spostiamola così non c'è tutto quel caos che ci sarebbe il 23 e lo spostiamo magari a una domenica mattina che tutti sono più liberi da lì siamo partiti il primo anno, il secondo anno, il terzo anno e bene o male siamo arrivati al tredicesimo anno che è quest'anno alla terza domenica di settembre abbiamo dei fantastici cartelloni ormai in dialetto Bresciano, Camuno, Bergamasco chiediamo sempre che la gente sia semplice sia allegra perché non c'è modo anche noi in quel momento di arrabbiarsi è una camminata diamo una mano con l'organizzazione nel senso che ci sono tre ristori c'è sempre dietro il pulmino e l'ambulanza perché non si sa mai una storta o uno che si sente male partiamo a 4 e mezza da Pisogne alle 6 siamo ai fratti di Dovere per la prima benedizione che sembra di tornare al Medioevo quando 100-150 persone entrano in chiesa e c'è questo minuscolo fraticello che va e dà una piccola benedizione per cui cose semplici poi si parte si arriva a Cerete secondo ristoro e poi si fa il terzo ristoro bene o male a Clusone prima di arrivare verso le diciamo tra le 11 e mezzogiorno ad Ardesio mezzogiorno rigoroso al santuario c'è la messa anche quest'anno ufficiata da un monsignore di Brescia che era curato ai tempi a Pisogne che ci dà sempre questa disponibilità mezzogiorno a luna c'è il pranzo sempre c'è una pasta asciutta all'oratorio di Ardesio dopodiché in pulmana 2 e mezza che riporta tutti all'overe o a Pisogne a seconda della loro partenza noi abbiamo sempre fatto questo piccolo omaggio regalo che è diventato il famoso gadget che anche quest'anno io colloco fra i 3-4 migliori che abbiamo fatto negli ultimi 13 anni Iscrizioni ancora aperte? Iscrizioni ancora aperte sì chiedo a tutti di essere celeri non aspettare il sabato mattina perché dobbiamo organizzarci a livello di pulmani di ristori di cibo e quant'altro aperte lascio pure il mio numero tranquillamente che è il 335-6454-733 basta un messaggio whatsapp in maniera che per chi è la prima volta io rispondo come si fa lo aggiungo comunque si va o al bar commercio a Pisogne o da Roberta a Conciature che hanno degli orari bene o male sempre aperti durante il giorno il bar anche la sera e si compila la cartolina di iscrizione consegnando i 20 euro che chiediamo omnicomprensivi di tutte le cose dal pellegrinaggio a Pisogne Ardesio ci spostiamo a Rovetta perché sabato 17 ci sarà un appuntamento davvero speciale che raduna tutti gli appassionati delle Fiat 500 sto parlando del primo Rovetta Historic Revival Fiat 500 vediamo il servizio allora partiamo dal programma che prevede il sabato mattina un'esposizione di disegni fatti dai bambini della scuola materna a Caliccioli che verranno esposti in piazza Ferrari con qualche macchina in posizione statica e poi partiremo col programma effettivo per il raduno all'una e mezza ci troveremo nel piazzale di Alcide De Gasperi dove ci raccoglieremo come appassionati di 500 per poi fare un tour verso il passo della Presolana ritornando passeremo per i comuni di Clusone e ritorneremo nuovamente a Rovetta nel piazzale Antistante e le Piscine dove ci troveremo per fare dei giochi che coinvolgeranno anche i bambini in quanto offriremo loro la merenda per la loro partecipazione con i disegni e quant'altro quindi poi si concluderà il programma con una serata stile Octoberfest perché portare le 500 qui a Rovetta? è nato tutto una sera parlando con William Granati che è il coordinatore delle valli bergamasche per il Fiat 500 una sorta di scommessa gioco che abbiamo preso abbiamo coinvolto poi la Proloco il comune di Rovetta che ci ha dato il suo benestare diciamo che parte degli appassionati è qua della zona tra me che abito qua a Rovetta e altri di Clusone e quindi abbiamo trovato un punto per noi comodo che però secondo noi dal punto di vista paesaggistico e di panorama dà grossi grossi colpi al cuore com'è la tua 500? bella come quelli che tutti hanno le 500 è bella a me piace è un modo l'aveva mio nonno quindi mi è rimasta l'idea della 500 da sempre da quando ero bambino poi l'ho guidata appena ne ho patentato ed era rimasta nel mio cuore appena ho avuto l'occasione con la mia compagnia abbiamo detto perché no facciamo un salto nel passato abbiamo parlato di partecipazione di tanta partecipazione per questo primo raduno a Rovetta non è l'unico in Bergamasca so che di recente siete stati a Stelvino ma so che ci sono anche persone che arrivano da lontano sì diciamo che ci sono degli appassionati che giungono da noi addirittura da Fano e nulla speriamo di avere tanti amici e cinquecentisti contentisti che vengano a trovarci e perché no far vivere un'emozione anche a tutta la città di Rovetta e alla sua comunità nonché coinvolgere i bambini perché comunque le macchine vecchie rubano sempre un sorriso in tutti noi Marco Migliorati primo raduno cinquecento a Rovetta non avete potuto dire di no a questo raduno così particolare di auto che andrà per un giorno a colorare tutta la città sì non abbiamo potuto dire di no a questa proposta che ci è stata fatta nel mese di agosto perché era molto interessante avere riempire un po' di colore il paese con le macchine cinquecento ma soprattutto è interessante il progetto futuro di questo di questo raduno perché non è nostra intenzione come amministrazione di fermarci al primo ma di continuare magari ogni anno fare sempre di più quindi aggiungendo partendo da poco aggiungendo ogni anno e ogni anno faremo sempre di più per questo raduno e quindi questo ci allettava molto e non potevamo dire di no sicuramente coinvolte famiglie e bambini ma soprattutto alle basi di questo raduno c'è anche la scoperta del territorio esatto gireranno un po' a scoprire un po' a Rovetta l'Alta Valle scopriranno anche i nostri esercizi commerciali in Concaverde il piazzale al mercato al parco con la cena è stata coinvolta anche la scuola materna con dei disegni colorati che verranno appesi in piazza e quindi vi aspettiamo tutti a votare l'amministrazione è molto contenta di questo evento e speriamo vada tutto bene ti vedremo a bordo di una 500 se ci sto sì volentieri bisognerà vedere un po' quello però sì ci saremo di sicuro ed ora ci occupiamo anche di musica perché lo avevamo intervistato ad inizio estate all'uscita della sua nuova singolo il dj Robert Lane è tornato a trovarci per raccontarci com'è andata l'estate è venuto a trovarci in studio Robert Lane riduce da un'estate di serate spinte anche dal suo singolo back to party com'è andata quest'estate direi che l'estate è andata molto molto bene è andata direi come nelle aspettative come diceva il singolo back to party torno ai party del 2022 che dopo due anni di pandemia e direi che l'estate è andata molto molto bene mi ha fatto un sacco di serate tra Bergamo arrivati in Val Camonica qualche serata anche più verso Brescia e quindi direi molto molto soddisfatto molto molto il singolo back to party si è spinto molto in quest'estate comunque perché il secondo single che è uscito lo scorso 20 maggio che l'abbiamo presentato qua infatti qui a Antena 2 Radio Like e verso la fine di maggio mi sembra che era il 26 maggio se non erro e quindi spinto sotto back to party l'estate è andata molto 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 bene un singolo che lo ripetiamo ha voluto lanciare un messaggio di fiducia dopo due anni difficili esatto un messaggio di fiducia dopo due anni difficili di causa pandemia e siamo tornati ai party finalmente noi DJ noi musicisti che aspettavamo tanto dopo tante sofferenze come tutti in questi lunghi due anni al 2020 al 2021 al 2021 anche al 2022 perché comunque a gennaio noi siamo stati abbastanza ancora fermi causa variante Omicron e quindi back to party ho voluto dire che siamo tornati finalmente alla normalità 100% definitiva ormai la musica è sempre più nel tuo destino come dice anche il tuo primo singolo esatto ormai la musica si è sempre più nel mio destino come dice la music ma adesso è il mio primo singolo che sta andando molto bene anche questo ormai fine 2022 perché ormai siamo verso la fine ormai già un anno e mezzo che è uscito poco più di un anno e mezzo è uscito esattamente il 30 luglio 2021 e sì la musica è sempre più nel mio destino mi sta dando un sacco di soddisfazioni ovunque tanto supporto da ovunque da tanta gente tanti locali che mi chiamano a suonare che rimangono molto contenti e quindi sono molto molto soddisfatto della carriera che sto costruendo e speriamo in bene che si continui così ma la forza c'è sempre la passione è tanta l'estate non è ancora finita ci sono alcune serate in programma nei prossimi giorni esatto c'è ancora tre date nei prossimi giorni questo weekend partendo da domani sera sabato sera e domenica sera con domenico chiudiamo l'estate 2022 come dicevo poc'anzi dire che è andata molto molto bene forse una delle estati se non l'estate più bella di sempre e poi che cosa ti riserva l'autunno l'inverno allora per l'autunno e l'inverno stiamo stiamo progettando tanti progetti tra cui tante serate in arrivo già programmate tante vie di programmazione in giro per Bergamo Brescia e così via e poi stiamo progettando nuova musica nuova musica che lo diciamo 40 anni a 2 nuova musica che uscirà nei prossimi mesi è stata sintonizzata sui miei social Robby e Robert Lane official su Instagram su Facebook tanta nuova musica in arrivo nei prossimi mesi dalla musica allo sport precisamente al calcio dilettantistico perché ieri sera è andata in scena il turno di Coppa Lombardia per le formazioni che militano in eccellenza e promozione vediamo come sono andate le partite raccontate chiaramente dal nostro Arnaldo Guadagni con le immagini di Falco San Paolo d'Argon a Prata Lunga è andata a scena ieri l'ultima partita del girone a 3 per il campionato di promozione o meglio per la Coppa Lombardia di promozione un girone dove proponevano il Pro Palazzolo la Falco e il San Paolo d'Argon quest'ultima battendo la squadra di Vedovati per 2 a 1 accede ai sedicesimi di finale i gol per la formazione del San Paolo d'Argon l'inizio su calcio di rigore portano la firma di Bonassi e poi di Armati che raddoppia sempre per le squadre delle api prova la Falco a riepirla nel corso della partita con il gol messo a segno da Caldara qualche emozione qualche volta si è chiamato in causa anche il portiere San Paolo d'Argon ma tutto sommato la squadra cittadina si è imposta con merito per quanto riguarda le altre formazioni o gli altri gironi sono 6 le squadre bergamasche che accedono ai sedicesimi di finale oltre a San Paolo d'Argon anche la Gavarnese che vincendo 2 a 0 in casa accede ai sedicesimi poi la Colognese la Cividatese e il Calorzio Corte queste sono le squadre che per il campionato di promozione accedono ai sedicesimi di finali anche l'eccellenza visto il suo ultimo turno per accedere qui agli ottavi di finale dove tre bergamasche hanno già acquisito il diritto di parteciparvi lo Scanzo Rosciate l'Atrizium e la Lemine mentre per quanto riguarda la Vertovese che battendo il casa il Darfo per una rete a 0 va a ganciare in classifica l'ospitaletto stessi gol segnati stessi gol subiti stessi punti in classifica ora sarà la Coppa di Siprina a decidere chi passerà il turno ricordiamo poi che qua come vi ho detto c'è stato il pareggio nel derby fra Bino Gandino e Pradonghese 1-1 ma entrambe le squadre sono state eliminate perché il Cast Brescia ha passato il turno ora finito le settimane di Coppa si ritorna in campo a metà di ottobre ci si tuffa ancora sul campionato campionato che domenica tornerà in campo la terza giornata per quanto riguarda le formazioni di eccellenza e promozione e sarà invece la seconda giornata per quanto riguarda il campionato di prima e seconda categoria ed ora è il momento degli auguri tantissimi auguri di buon compleanno a Silvia Lucchini di Leffe da mamma Mirella da papà Stefano dal compagno Paolo dai nonni Mario e Lugina e dalle ammitissime cuginette Giorgia e Matilda ma chiaramente anche da tutti i familiari anche noi ci aggiungiamo a quelli che sono gli auguri a Silvia da parte di tutta la redazione di Antenna 2 TV ed ora vado a leggervi quelli che sono i programmi della nostra emittente in onda questa sera su Antenna 2 qui sul canale 84 alle 20.20 Paddock alle 21.10 il Rotocalco alle 21.30 Agri Sapori alle 22 Work in Progress alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.05 Hard Track alle 23.45 il Sasso nello Stagno con il nostro Tony Tranquillo e alla mezzanotte 30 la terza edizione del nostro telegiornale e come ogni sera vado a leggervi anche quello che è l'almanacco perché domani sarà venerdì 16 settembre il sole sorge alle 6.55 tramonta alle 19.35 il culmine alle 13.15 la durata del giorno è di 12 ore e 40 minuti la luna sorge alle 22.26 e tramonta alle 14.54 la fase lunare è ultimo quarto la chiesa ricorda i santi Comelio e Cipriano e anche per questa sera il nostro telegiornale finisce qui io vi ricordo che al termine della nostra edizione ci sarà l'appuntamento con le previsioni del tempo e la rubrica classica ma non troppo per tutte le vostre segnalazioni per i vostri messaggi di auguri e non solo potete scriverci una mail a redazione chiocciola antenna2.it e potete consultare chiaramente anche il nostro sito myvalley.it per tutte le ultime notizie grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata grazie per averci seguito